La lotta paga, schierarsi dalla parte degli ultimi a Cosenza ha portato a un risultato significativo, straordinario. La Calabria ha una legge sull'autorecupero degli edifici pubblici abbandonati e lo si deve principalmente, se non esclusivamente, alla battaglia condotta in tutti questi mesi, anzi in tutti questi anni, da Prendo Casa qui a Cosenza. E siamo con due delle figure più significative del movimento cosentino e stiamo registrando qui a Via Savoia questo stabile occupato di proprietà dell'ATERP Calabria, con Ferdinando Gentile e con Jessica Cosenza. Allora Ferdinando, intanto proviamo a spiegare i contenuti della legge. Cosa significa l'autorecupero degli edifici pubblici abbandonati? L'autorecupero è una legge regionale che era stata già fatta in alcune altre regioni d'Italia, nel Lazio, in Piemonte, in Friuli. È una legge che in realtà dà la possibilità di recuperare gli immobili pubblici e anche alcuni immobili privati per essere utilizzati per funzioni sociali. In questo caso è legata molto alla questione dell'emergenza abitativa, cioè la possibilità che gli inquilini o chi fino all'altro giorno viveva la precarietà abitativa, si può organizzare all'interno di una cooperativa e costruire un progetto che gli dà la possibilità di in realtà recuperare l'immobile o un immobile che è stato occupato oppure un immobile che è abbandonato di proprietà a punto pubblico e farla diventare in realtà una casa vera e propria. È una misura che in realtà risolve la questione del cemento, nel senso che recupera e non prevede nuove costruzioni. È una misura pensata per non gettare via, abbandonare il patrimonio pubblico che spesso e volentieri viene abbandonato, depredato, utilizzato in maniera sbagliata. Invece questo in realtà fa in modo che l'autorecupero diventi realmente una formula per valorizzare il patrimonio pubblico che è un patrimonio enorme in questo Paese e in questa Regione. E in più dalla possibilità a chi vive questa drammatica problematica dell'emergenza a casa di ricostruirsi un futuro, una vita anche a cominciare proprio dal fatto di progettarsi insieme agli altri quella che potrebbe essere la sua futura abitazione. E' una misura che noi abbiamo fatto tanto per arrivarci, non era facile. Nei primi anni quando ponevamo questa questione venivamo visti, non lo capivano in realtà gli amministratori locali di questa Regione né gli amministratori locali di questa città, nel senso che non sapevano assolutamente cosa era questa cosa. Era per loro inimmaginabile che si potesse immaginare che delle persone si organizzavano in una cooperativa e potevano fare, potevano ristrutturare un palazzo. Questa cosa qui in realtà poi col tempo, con i tavoli che sono stati fatti, con una serie di battaglie abbiamo fatto col fatto che abbiamo dovuto imporre poi di fatto alla Regione Calabria e quindi a Musmano di incontrarci e di poter proporre questa cosa, perché non dimentichiamo oggi la paternità di questa storia se la richiamano un po' in tanti. In realtà se noi nello scorso aprile e negli scorsi anni nei vari tavoli non avevamo occupato la serie del PD e non si apriva il tavolo con Musmano un mese dopo alla cittadella regionale, a quest'ora la Regione Calabria ancora non aveva una legge regionale sull'autore pubblico, che per noi è una legge di dignità, nel senso che finalmente su un tema importante come la casa, ma su un tema importante come il patrimonio pubblico, che secondo noi è sotto utilizzato se anzi viene lasciato all'inguria, è un meccanismo di grosso avanzamento da questo punto di vista che ne possono soffrire tutti, nel senso che la battaglia che noi abbiamo fatto quest'anno non è una battaglia che riguarda solamente chi ha fatto con noi, si è organizzato nel nostro comitato, è una battaglia che in realtà da domani qualsiasi cittadino in questa Regione potrà soffruirne secondo le modalità che insomma prevede la legge regionale. Questa legge in realtà dà la possibilità, per farla in maniera molto semplice, la possibilità per esempio a chi vive a Via Savoia di organizzarsi in cooperativa e costruire un progetto di recupero dell'immobile con una parte dei lavori che sono responsabilità dell'amministrazione o comunque dell'amministrazione statale quindi le parti esterne, le fognature, i tetti, la parte più strutturale, tutta la parte interna è a carico, sarebbe a carico di una cooperativa che in realtà si costituisce, si apre un mutuo con una banca piuttosto che con un ente con una garanzia la Regione o in questo caso il Comune e iniziano poi i lavori. Quelle stesse persone poi pagheranno mensilmente il mutuo e il pagamento del mutuo in realtà risulta come se stessero pagando il canone sociale che si paga nelle case popolari, in realtà verrebbe scorporato poi da quelli che poi saranno i canoni che ognuno paga quando sono in una cosa popolare normalmente, quindi è una misura che in realtà fa in modo che comunque si si assemble all'interno di un discorso dell'edilizia di scienze della Repubblica e quindi anche chi in quel momento qui sta facendo questo tipo di operazione in realtà è già un inquilino di ERP, dell'edilizia di scienze della Repubblica. Questo è quello che noi abbiamo fatto sì che venisse messo nella lei perché noi pensiamo che sia importante un meccanismo di comunità all'interno di questa storia, è importante che l'ente statale, regionale o comunale metta delle sue risorse nella cosa ma è anche importante che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di chi poi vive l'immobile e quindi costruisce nei fatti quello che diventerà poi una futura casa. Chiaramente questa cosa qui avviene se, cioè ora c'è il pezzo di carta, nel senso c'è la legge regionale ora bisognerà questa cosa qui farla diventare una realtà, tant'è vero che è stato previsto nella legge regionale che a partire dall'approvazione entro un anno tutti i comuni della Calabria dovranno fornire un elenco degli immobili pubblici presenti ognuno nel proprio territorio per capire anche qual è l'entità del patrimonio pubblico esistente in questa regione e per capire anche quanti immobili potrebbero essere utilizzati con questa formula. Partendo dal presupposto che anche chi sta in una casa popolare attualmente può utilizzare l'autorecupero per ristrutturarla, cioè in realtà chi è già assegnatore di casa popolare per ristrutturare la sua casa popolare potrebbe far utilizzare anche esso il metodo dell'autorecupero facendo in maniera individuale naturalmente, perché non per forza nell'ottica della cooperativa però dalla possibilità di autorecuperare il proprio appartamento e non pagando il canone sociale o comunque con le spese che viene fatte vengono scorporate dal canone sociale che bisognerebbe pagare ogni mese. Noi pensiamo che questa sia una misura importante, nel senso che è una misura, appunto, come dicevo prima che può dare un cambio di rotta anche all'interno della questione che riguarda appunto il patrimonio pubblico di questa regione e il patrimonio ERP in generale di questa regione che spesso e volentieri è o amministrato male o abbandonato o alla merced della politica, della clientela, del malaffare e quindi questo può essere un grande meccanismo di legalità, tra virgolette, se ne vogliamo dirla in maniera molto franca. Ora però tocca, come dire, far sì che questa cosa diventi però una realtà concreta quindi noi ora proveremo fin da subito a spingere i comuni ad ottemperare a quello che la legge regionale richiede. In più, quello che insomma abbiamo già scritto nei primi comunicati appena è stata approvata questa legge è il fatto che secondo noi via Savoia, dove siamo noi oggi, può essere in realtà il primo vero esperimento in questa regione di autorecupero, che in realtà questo è un immobile pubblico addirittura dell'azienda territoriale per l'edilizia di esigenza repubblica e potrebbe appunto essere il primo esperimento regionale e quindi un esperimento che poi si può riprodurre anche in altre parti di questa regione sul quale poter puntare un po' tutti. Oggi, come ti dicevo prima, ognuno si pende la paternità di questa legge, seppur noi sappiamo benissimo che chi l'ha proposta, Mimmo Bevacqua in consiglio regionale, non ne conosce assolutamente neanche il contenuto, ma se non lo conosce solo Musmano e chi con lui insieme a noi poi si è saluta al tavolo e ha ragionato su questa prospettiva. Però noi pensiamo che oggi chi prova a tirare da parte sua la paternità di questa legge si debba impegnare a far sì che Via Savoia possa diventare il primo esperimento di autorecupero. Se veramente tengono a questa legge e pensano che sia veramente un modello innovativo, perché non partire dal centro di Cosenza e da un luogo anche simbolo della lotta contro la povertà e per la dignità delle persone. Diciamo con chiarezza che questa legge esiste grazie allo sforzo, al coraggio e alla dignità di questi ragazzi che dal basso, in un clima repressivo, in alcuni momenti anche allarmante, hanno avuto il coraggio di andare avanti e di battersi per gli ultimi. Quindi un esempio per tanti calabresi e un esempio per la politica. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Ci troviamo subito dopo. Calabria News 24 Cronaca, politica, spettacolo, economia, attualità, sport. Le notizie del giorno, ora dopo ora. 24 ore su 24. Scarica l'app per essere sempre aggiornato. Segui le notizie in tempo reale su www.calabrianews24.it Calabria News 24. Se succede, noi ci siamo. Seconda parte di Pagine di Resistenza, registrata qui all'interno di Via Savoia, lo stabile occupato dalle realtà di base, dal movimento Prendo Casa, per porre, diciamo, all'attenzione di tutti il dramma delle abitazioni, della mancanza di abitazioni per gli ultimi, per i senza tetto. Allora, Jessica Cosenza è una militante attiva di Prendo Casa, è una giovane coraggiosa, vive all'interno di questa realtà. Allora, raccontiamo brevemente come nasce questa occupazione, come si vive all'interno di quella che è un'esperienza straordinaria di condominio sociale, già adesso. L'occupazione di Via Savoia nasce a novembre del 2016, ma comunque quella è la data dell'occupazione fisica dello stabile, ma già da prima le persone che ora abitano qui si riunivano. Durante noi abbiamo fatto degli sportelli in cui tutte le persone che avevano difficoltà abitative, dallo sfratto e al pignoramento, eccetera, a cui tutte queste persone si rivolgono. A novembre del 2016 decidiamo di occupare questo stabile. Quando noi siamo entrati qui, comunque lo stabile versava in condizioni pessime. Abbiamo dovuto in pochi giorni ripulire interamente il giardino, ripristinare interamente comunque tutti i servizi di base del palazzo, perché comunque è un palazzo che è stato abbandonato per molti anni e che è stato quindi ovviamente preda di ogni tipo di vandalismo. Insomma, in occupazione si vive, non si può dire che si vive come in un condominio normale, perché comunque almeno in questa occupazione la conformazione non è quella di un appartamento, la conformazione degli spazi in cui viviamo, essendo che prima questi erano stati uffici Aterp e poi gli uffici dell'ex istituto Pitacora, quindi comunque sempre uffici. E quindi si vive in una dimensione molto di comunità. Ogni nucleo, ogni singolo ha uno spazio assegnato in cui vive la sua privacy, per il resto alcuni spazi come ad esempio gli spazi di svago, i servizi, quindi i bagni sono comuni, sono divisi tra alcune persone, ci siamo organizzati ovviamente in base alla vicinanza delle stanze, in base a chi magari già si conosceva meglio prima, quindi comunque ha già un rapporto di fiducia. Sicuramente all'interno di uno stabile occupato si vivono alcune difficoltà che all'interno di un'altra casa, di un normale appartamento non si vivono. Evidentemente comunque se molta gente abita in occupazione e nell'occupazione di via Savoia abitano più di 50 persone è perché c'è una reale condizione di necessità e quindi una volontà di fare un sacrificio attraverso una lotta, non solo il sacrificio di adattarsi ma anche di scendere in piazza, di portare una condizione che è strettamente spesso vissuta in maniera privata su un piano pubblico e rivendicare da quella condizione che è del singolo una migliore soluzione per tutti. C'è la volontà, c'è lo spirito di sacrificio perché attraverso questa lotta si pensa di poter ottenere appunto un risultato che è quello del soddisfacimento di un diritto principale come la casa. Speriamo che a settembre quando si riaprirà il tavolo con prefettura, regione e comune e le nostre istanze, le nostre richieste vengano accolte che possa appunto essere via Savoia uno dei primi esperimenti di autorecupero e l'esperimento pilota anche perché non ci sono particolari impedimenti questo è uno stabile pubblico addirittura di proprietà dell'ATERP quindi della regione Calabria perché questa occupazione da quando è nata ha sempre lottato per l'approvazione perché questa legge fosse intanto anche solo immaginata e poi in seguito approvata perché tutti gli occupanti, gli inquilini di questa occupazione credono molto in questo strumento come appunto riscatto e soprattutto come una forma di inclusione rispetto a quello che sarebbe andare in un appartamento assegnato e già pronto se lo vivi diciamo si vivrebbe l'autorecupero in maniera più da protagonisti protagonisti comunque del proprio riscatto e quindi di conseguenza anche di ogni cambiamento e di ogni lavoro e di ogni adeguamento della propria casa e comunque sarebbe insomma un bel risultato che ci farebbe contenti visto che sono anni che diciamo questa cosa la gridiamo in piazza e sarebbe penso il risultato più grosso per ognuno di noi sia in maniera collettiva come famiglia, comunità di via Savoia sia in maniera singoli è una grossa soddisfazione personale per ognuno di noi perché ognuno di noi ha investito un pezzo della sua vita, del suo tempo e del suo impegno perché questa cosa possa esistere in questo momento e perché insomma non ne possano soffrire anche altre persone, non solo noi Allora Ferdinando, qui ci sono bambini che giocano ci sono bambini italiani, ci sono bambini migranti hanno sguardi sereni vi siete battuti per dare dignità all'infanzia vi siete battuti per dare dignità all'esistenza nel suo significato più ampio dove vuole arrivare, prendo casa dove volete arrivare come realtà di base perché in un momento in cui premono logiche razziste in cui c'è un'ondata repressiva forte nei confronti degli ultimi e dei poveri prendo casa, ha avuto la forza politica e morale di rompere tutto questo e di consegnarci un modello di inclusione sociale che sinceramente merita ormai occasioni di studio scientifico per la qualità delle proposte per il garbo democratico per la capacità di muoversi sempre in una maniera assolutamente pacifica nei confronti del territorio Sicuramente la situazione come dici tu non è delle migliori noi abbiamo provato ad evitare di ritornare su discorsi di pessimismo di paura rispetto a quello che è il clima attuale in Italia pensiamo che solo diciamo con la lotta solo rilanciando si possono in qualche modo arginare le derive che ci sono in questo paese chiaramente il nostro è sempre stato un discorso ampio cioè noi ci siamo abbiamo sempre potuto fare un ragionamento che non era legato solamente a un'etnia oppure solamente a una questione dei rifugiati o solamente a una questione degli italiani ma è sempre stata una dimensione che ha provato a spaziare su un ambito largo appunto parlando di persone quindi non fra differenze fra chi veniva da Via Popilia piuttosto che dal Mali noi non c'è mai non c'è mai interessato niente da questo punto di vista tant'è vero che se tu vai a vedere le nostre prime occupazioni negli anni 2011 le nostre prime occupazioni sono solamente composte da italiani quindi come dire da questo punto di vista noi abbiamo sempre tentato ad evitare la solita meccanismo diciamo del del ragionamento solo legato all'ambito migranti all'ambito diciamo appunto di chi arrivava dall'Africa abbiamo sempre portato a fuori un meccanismo molto più molto più largo e è stato vincente perché anche le proposte che noi abbiamo fatto in questi anni sono tutte proposte che vanno nell'ottica di risolvere il problema a tutti e a tutte e non solamente a alcune categorie di persone noi pensiamo che chiaramente se noi avessimo diciamo ci fossimo fermati di fronte a quello che era l'attacco che arrivava sia come dicevi tu prima repressivo dalla città sia dall'indolleranza in generale del paese chiaramente a quest'ora magari stavamo parlando di tutta altra storia abbiamo voluto sfidare quello che era un meccanismo che si stava costruendo in questa città contro di noi e contro chi con noi si è organizzato e lotta quotidianamente per riprendersi un diritto e questa cosa mi sembra che è stata vincente c'è il fatto comunque di non avere paura e di aver rilanciato prendo casa che farà da domani innanzitutto dobbiamo difendere questa occupazione perché via Savoia dal primo settembre anche se sotto sgombero dobbiamo capire appunto come dicevamo prima quella che sarà anche la determinazione dell'ATREP e della regione rispetto a questa occupazione alla luce anche della legge regionale che secondo noi in questo momento dà la possibilità di risolvere questo problema in una maniera ancora meglio di come si potrebbe risolvere prima e due secondo noi come dire bisogna continuare ancora c'è tanta gente che vive il dramma abitativo c'è tanta gente che vive questo disagio c'è tanta gente che ancora ha anche vergogna di mostrarlo questo problema e chiaramente noi con gli sportelli comunque continueremo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso pensiamo che comunque bisogna anche immaginare qualcosa che prendo casa diventi anche un movimento che provi anche ad andare oltre la questione abitativa ma provi in qualche modo anche con il modello che si è dato in questi anni noi abbiamo fatto occupazioni abbiamo fatto manifestazioni sotto tutti i palazzi di questa città sempre in maniera molto trasparente e molto chiara noi pensiamo che questo sia un metodo che funzioni cioè attaccare direttamente la controparte e portarla alla discussione su un tavolo è la cosa che più paga invece di andare a chiedere il favore o l'amicizia per riuscire ad aprire qualsiasi l'interlocuzione si aprono secondo noi anche su una questione di rapporti di forza in alcuni momenti e mi sembra che questa cosa qui alla fine abbia appunto pagato quindi noi pensiamo che anche il meccanismo di prendo casa debba diventare qualcosa che riesce a stare sul pezzo cittadino in maniera anche più ampia e non solo intorno alla questione dell'emergenza abitativa perché ci sono tanti temi che devono essere affrontati a partire dalla questione delle grandi opere nel senso che noi abbiamo fatto anche una battaglia negli scorsi anni ma il fatto che ancora una volta alla politica nostrana pensi alle grandi opere come modello di sviluppo a grandi opere sbagliate perché non è che pensa al fatto di riqualificare il territorio riqualificare il patrimonio pensa a grandi opere come appunto la metropolitana come l'Ovovia o il parco acquatico che hanno appena fatto che sono opere che secondo noi servono a poco rispetto alla vera esigenza e alle veri priorità dei cittadini ci sono una serie di cose invece che si potrebbero fare e che però solo battendosi in maniera chiara e trasparente come abbiamo fatto noi in questi anni si possono effettivamente raggiungere o comunque orientare la politica a cambiare alcuni obiettivi che chiaramente secondo noi alcune cose sono veramente improponibili in un momento in cui comunque questa terra è martoriata da tutta una serie di cose vediamo gli scandali in televisione costantemente sulle grandi opere sugli appalti in questo paese noi immaginiamo che realmente le priorità per questa città per questa regione siano altre rispetto a quello che si immaginano i politici di questo territorio e beh prendo casa dovrà anche assumersi la responsabilità di costruire un meccanismo di attacco più forte su queste questioni perché a noi interessa che si ridia dignità a chi vive nei nostri territori e gli si ridia dignità in maniera reale e non con meccanismi di facciata o con la bellezza come dice il sindaco Chiuto poi tralasciando quella che è la quotidianità di ognuno di noi che vive come una precarietà enorme e col fatto che molte volte è costretto anche a scappare da questi territori per andare a trovare fortuna fuori e lasciare tutta la propria vita e andare via per noi questo è un meccanismo che non va più bene che bisogna in qualche modo trovare un modo per invertire la rotta e per far sì che la gente non deve scappare da qua per il lavoro per farsi curare per andare a studiare insomma è un meccanismo che non può più andare avanti Allora noi chiudiamo dicendo sin da adesso che continueremo il racconto di questa esperienza straordinaria che è nata qui a Cosenza la continueremo a raccontare schierandoci in maniera aperta al fianco di questi ragazzi ecco quando avremo più Simone Guglielmelli più Jessica Cosenza più Giuseppe Bornino più Ferdinando Gentile solo per citare alcuni dei ragazzi di questo collettivo probabilmente avremo una Calabria diversa un mezzogiorno diverso e un paese diverso e questi sono giovani che vanno sostenuti in maniera aperta a cominciare da questo progetto di via Savoia che deve diventare grazie al loro sacrificio la prima grande testimonianza che è possibile cambiare la Calabria dal basso ci vediamo il prossimo martedì